Buongiorno ragazzi, oggi iniziamo lo studio di un nuovo secolo che è il diciottesimo secolo, il 1700, e facciamo due correnti che fanno parte della prima metà del 1700, lo stile rococò e il vedutismo. Prendo come data per l'inizio dello stile rococò il completamento della reggia di Versailles, iniziata nel 1634, perciò parecchio tempo prima, viene completata nel 1710. Allora, dopo vi spiego come mai prendo questo esempio, cominciamo a parlare di questo stile che significa rococò. Allora, rococò significa riccamente decorato, deriva dal termine rocaille in francese che significa conchiglia, rocaille, perché c'era l'abitudine in questo periodo, da parte di chi realizzava un giardino soprattutto, di mescolare o inserire nella malta, cioè nel cemento come lo chiamiamo noi, delle conchiglie, e queste conchiglie servivano per decorare, per cercare di abbellire un po' queste parti. Da qui il termine rococò, cioè una decorazione molto ricca. È proprio, ma non solo fare delle conchiglie, in generale è proprio quest'arte l'espressione della ricchezza estrema e della vita facile che ha la nobiltà in questo secolo tra il 600 e il 700. Abbiamo preso Versailles appunto come esempio perché è una reggia molto grande fatta costruire già precedentemente, ma completata da Luigi XIV e che Luigi XIV userà come strumento, ma anche come simbolo del suo potere molto forte. Le caratteristiche del rococò appunto sono una grande decoratività, cioè decorare moltissimo anche gli oggetti di uso quotidiano. Infatti l'altra caratteristica è l'importanza che viene data a quelle che vengono chiamate le arti minori. Cosa sono le arti minori? Le arti minori sono l'arte applicata agli oggetti di uso quotidiano, perciò piatti, stoviglie, tavoli, sedie, abiti, mobili in generale. Si diffonde moltissimo, per esempio, l'utilizzo della porcellana, che è importante. Soprattutto in Campania, per quanto riguarda l'Italia, dove c'erano i borboni, che l'hanno importata dall'est Europa, ma anche in Francia, per carità, c'è una grande diffusione della porcellana. In realtà già dal 500 la porcellana giunge in Europa importata dai paesi orientali, perciò Giappone e Cina, il famoso vaso cinese. La porcellana è una tecnica molto preziosa di produzione di oggetti in terracotta, però vetrificati, smaltati e dunque possono essere anche dipinti. Andiamo avanti. Per quanto riguarda l'architettura, l'edificio da ricordarsi è per l'appunto la reggia, cioè l'abitazione del re o del nobile, ed è la dimostrazione della sua ricchezza. Perciò più uno è ricco e potente, più la reggia deve essere sfarzosa in tutti i suoi particolari dettagli, perciò deve essere molto decorata, quasi fastidiosamente decorata alcune volte. Se volete guardare bene i particolari della reggia di Versailles, più che da questa foto che mi serve per parlarvi di un'altra cosa, potete guardare pagine 274-275. La inserisce nell'arte barocca. In effetti il rococò è la continuazione del barocco. Questa reggia, come abbiamo detto, nasce già prima della metà del Seicento, cioè comincia a essere formata. Non vi cito un architetto proprio perché se ne sono susseguiti tantissimi, ma se magari guardate qualche fonte potreste trovare il nome André Lenotre. Osservate a pagina 274 soprattutto la fotografia della Galleria degli Specchi, che è forse la sala più famosa della reggia. E potrete notare quanto viene ostentata la ricchezza e quanto in ogni particolare tutte le cose che ci sono, sono decorate. La reggia è importante non solo al suo interno, ma come già dal Cinquecento avevamo detto, cominciava a manifestarsi la voglia di vivere il palazzo all'esterno, queste regge sono importanti anche per i loro grandi parchi all'esterno. In questo caso possiamo notare, per esempio, di fronte al palazzo di Versailles, questa grande fontana con intorno questo giardino molto regolare, vedete, molto curato. È il giardino alla francese, per l'appunto, dove l'uomo controlla e domina la natura e ne fa quello che vuole. Si contrappone al giardino all'inglese, che invece lascia la natura più libera di crescere, più selvaggia da un certo punto di vista. La reggia di Versailles farà poi da esempio altre costruzioni in tutta Europa. Noi ne studiamo due italiane, una ad opera dell'architetto Juvarra, letto come Juventus, vedete, è la palazzina di Stupinigi, che è una palazzina di caccia, che sta a pochi chilometri da Torino, poco fuori Torino, e serviva appunto come luogo per andare in campagna ai Re, ai Savoia, e uscire a caccia. Perciò ci sono questi grandi parchi e come vedete questi grandi viali che portano all'esterno della reggia. Chiaramente si chiama palazzina, ma è una vera e propria reggia. Vedete che c'è un corpo centrale e poi queste grandi ali, questi bracci, che si estendono nello spazio esterno. Un'altra reggia molto importante, uno dei gioielli della nostra nazione, è la reggia di Caserta. La reggia di Caserta ha un corpo centrale, come vedete, fatto da quattro corti, quattro cortili quadrati, e si estende anch'essa all'esterno, imitando Versailles per queste grandi prospettive che ci sono anche a Versailles, con dei corsi d'acqua, degli specchi, delle fontane, specchi nel senso specchi d'acqua, dei laghetti, delle fontane, di acqua che viene fatta confluire grazie a una tecnologia che allora era molto all'avanguardia, delle tubature all'avanguardia, dalle colline intorno, da luoghi lontani, insomma. Inoltre i giardini della reggia di Caserta sono costellati da delle bellissime sculture, opere d'arte. In qualsiasi angolo si vada a passeggiare in questa reggia si trovano delle preziose opere d'arte. Per l'appunto parliamo di pittura e scultura, che essenzialmente nel Rococo hanno una funzione decorativa, ovviamente. Perciò servono più che altro, come già abbiamo visto magari nelle ville del Cinquecento di Palladio, la pittura e anche la scultura servono a decorare, ad abbellire le abitazioni e gli edifici frequentati dalla nobiltà e dalla borghesia molto ricca, soprattutto la nobiltà. Prendiamo come esempio il banchetto di Cleopatra di Giovan Battista Tiepolo, che è uno degli artisti più rappresentativi in questo senso. Allora, non dovendo comunicare delle cose particolari, delle informazioni particolari, queste opere d'arte prendono come tematiche dei soggetti storici o dei soggetti mitologici. In questo caso si tratta del banchetto di Cleopatra, cioè Cleopatra che è questa figura qui interpretata, ovviamente, questo è un Egitto interpretato con le conoscenze e con il gusto dell'epoca. Tra l'altro vedete che pelle bianchissima che ha Cleopatra, anche perché era sinonimo di bellezza nel Settecento, la pelle molto bianca. Cleopatra allestisce un grande banchetto per colpire Marco Antonio, il generale romano, erede di Giulio Cesare che già era stato conquistato da Cleopatra. Questa donna, secondo i racconti bellissima, conquisterà anche Marco Antonio, ne nascerà un amore storicamente provato anche. La lezione su Rococò è finita e adesso guardiamo direttamente il vedutismo. Per parlare di vedutismo, che significa arte dei paesaggi, perché la veduta è il paesaggio, dobbiamo parlare di due novità del diciottesimo secolo, cioè dell'invenzione della camera ottica, che è sostanzialmente una macchina, un dispositivo per riprodurre paesaggi, e poi del Grand Tour, che spiego tra poco. Ma prima andiamo a vedere che cos'è questa camera ottica. La camera ottica è sostanzialmente l'antenato della macchina fotografica. Camera perché nasce proprio come una stanzina, una camera, una scatola dove ci possano stare dentro delle persone, con un foro attraverso il quale si può far entrare la luce e copiare il soggetto che c'è all'esterno. La luce entra nella camera, si va a colpire, si appoggia sulla tela e l'artista può ricalcare la figura. È un modo per essere più precisi, ma non solo più precisi, anche più veloci. La camera ottica può essere anche costruita invece come una grande scatola, che perciò si può portare più facilmente in giro, e non bisogna mettersi a costruirla magari per giornate, formata così da un foro che cattura la luce del soggetto che noi inquadriamo. Insomma, questa luce si porta, si appoggia su uno specchio e lo specchio riflette l'immagine sopra su un vetro sul quale possiamo appoggiare un foglio o una tela e perciò ricalcarlo precisamente. L'anno prossimo, quando parleremo della macchina fotografica, ricordatevi di questa camera oscura che è il suo antenato. Poi c'è il Grand Tour. Che cos'è il Grand Tour? Il Grand Tour è un viaggio che i giovani europei, molto ricchi perciò gli altoborghesi e i nobili, avevano l'abitudine fin dalla fine del Seicento di fare verso i luoghi d'arte. Era un viaggio che si faceva finiti gli studi, prima di iniziare la vita lavorativa o comunque la vita da adulti, questi giovani facevano questi viaggi che potevano durare mesi o addirittura qualche anno anche, perché tanto fretta non ne avevano e i mezzi di trasporto erano quello che erano come velocità. Questi giovani, facendo questi viaggi, volevano visitare le città più importanti dell'arte, perciò spesso l'obiettivo era l'Italia. E dunque si andava a Venezia, a Roma, c'era chi si spingeva anche fino a Napoli, qualcuno andava anche in Grecia, oltre, per carità. Non essendoci macchine fotografiche, l'unico modo, oltre che tenere un diario per ricordarsi o portare a casa dei ricordi dei luoghi visitati, era saper disegnare oppure comprarsi delle opere d'arte. E qui entra in gioco il vedutismo. Il vedutismo è il mercato derivante da questa abitudine del Grand Tour, che appunto è l'antenato del turismo, Grand Tour, la parola genera la parola turismo. Perciò, soprattutto a Venezia, ma anche a Roma, in altre città, si crea un mercato che fa sì che gli artisti comincino a produrre degli scorci delle città, cioè delle parti, delle vedute delle città, e che vengono venduti poi come souvenir, come dei ricordi per il viaggio. Per produrle in grande quantità, queste opere d'arte, in maniera da guadagnare più soldi, perché magari tante persone volevano, che ne so, una veduta della piazza San Marco di Venezia, anzi, non magari, di sicuro, gli artisti cosa fanno? Per essere più veloci, dipingono queste opere grazie alla camera ottica, che gli permette di farle molto velocemente, perciò di guadagnare più soldi, di venderne di più. È il caso, per esempio, di Antonio Canal, detto il Canaletto, voi ricordatevi Canaletto, che produce delle vedute di Venezia, e spesso, non sempre, ma spesso, le ambienta in delle giornate speciali. In questo caso, per esempio, si vede la piazza San Marco durante il giorno dell'ascensione. Nel giorno dell'ascensione c'era questa grande barca, questa imbarcazione molto grande, molto fastosa, la vedete, che si chiamava il Bucintoro, e che sfilava nei canali davanti alla città di Venezia, insieme, come vedete, a tantissime altre imbarcazioni e gondole. Era una giornata di festa speciale. Perciò qui il Canaletto inquadra non solo la città, ma anche un evento che magari un turista poteva aver visitato. Francesco Guardi è un altro vedutista, che però produce, oltre che delle vedute molto realistiche, anche quelli che vengono chiamati i capricci. Cos'è un capriccio? Un capriccio è un paesaggio, una veduta, che però viene composta con delle parti di panorama diverse, messe insieme, in modo da racchiudere più elementi che magari non sarebbero davvero visibili in quel modo, in quella prospettiva, insieme. E spesso ci mette anche delle storie. Qui c'è una storia con dei pulcinella. Abbiamo quasi finito la lezione. Dobbiamo ricordarci che questo fenomeno del Grand Tour, insieme alle grandi scoperte archeologiche che vengono fatte in quel secolo. Ricordiamoci, come abbiamo imparato in prima, che per esempio Pompei ed Ercolano vengono riscoperte proprio nel XVIII secolo. Fa sì che nasca questo interesse da parte delle persone ricche di collezionare, questa voglia di collezionare, opere d'arte e oggetti antichi, soprattutto artistici. E questa cosa sarà il primo passo verso la futura costituzione dei musei, perché poi quando una persona molto ricca che magari non ha eredi e che aveva collezionato tantissime opere d'arte, aveva una grande collezione d'arte, muore, spesso lo Stato acquisisce, o spesso è stato così, tutta la sua collezione. Perciò questo porterà a formare i grandi musei europei. Questa notizia delle grandi scoperte archeologiche ci risulta utile perché servirà per iniziare la lezione che faremo in classe, che è l'ultima lezione dell'anno e che riguarda il neoclassicismo. Oggi la lezione è finita, alla prossima! Grazie! Grazie!